Andiamo. In questo periodo storico, credi che i giovani siano ascoltati in quanto tali? Questa è una domanda che, a parte gli scherzi della pausa, mi verrebbe da rigirarvela, nel senso vi sentite ascoltati, vi sentite ascoltate, no? In questo periodo storico e in quelli precedenti, parli del momento Covid particolare, eccetera. Allora, quello che è successo negli ultimi decenni è comunque qualcosa che non si era mai visto, nel senso che con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, comunque, anche visto che l'hanno, come dire, ratificata praticamente tutti i paesi del mondo, anche quelli dove magari ci sono dittature, eccetera, per cui magari alcuni passaggi sono un po' lenti, però è cambiato dappertutto, sicuramente nel mondo, pur rimanendo tantissimi problemi, in tanti paesi una cultura dell'infanzia e anche del diritto a sentire che cosa dicono i ragazzi è migliorato. Questo è un dato di fatto. Durante la pandemia in questa epoca storica sono ascoltati, non so se questa è una domanda per voi, sicuramente durante il lockdown e le fasi più difficili non hanno ascoltato tantissime parti della società, sicuramente bambini e bambini, ragazzi e ragazzi per primi sono stati ignorati e poi magari dentro l'emergenza può anche starci. Ora l'emergenza non è finita, però è un po' diversificata, bisogna capire come uscirne per bene, ecco, servirebbe molto di più di quello che sta succedendo.